Uuuuuh! No, che sfiga clamorosa! Guarda che noi non... No... Eeeh! Non sanno cosa fare! Dai, dai! Ehi, tre, tre, tre! No! 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 Uuuuh! Dai, sta tu scoperta in 4 minuti! No! Ce la finale? No! 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 Eh, ora piave! Sfoi non me l'è ora! Sto facendo il video! Sto facendo il video! Eh, buona la sugera! Sto facendo il video! Sto facendo il video! Sto facendo il video! Tosto facendo il video! Sto facendo il video!